Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessante romanzo storico, appena pubblicato da Newton Compton, che si intitola L'ultima città dell'impero. L'autore è Gastone Breccia, sono 256 pagine, a soli 9,90 euro, quindi già questo induce all'acquisto. Ma io non rubo altro tempo al nostro ospite, così ci può parlare di questo nuovo romanzo appena pubblicato. Prego Gastone, a te. Grazie, grazie dell'invito, sono molto contento di parlare di questo romanzo. È la mia prima intervista, ma è anche il mio primo romanzo, quindi è proprio una nuova avventura. Hai detto romanzo storico, in realtà la grossa scommessa di questo romanzo è che è un romanzo che unisce piani diversi della storia. Il titolo originale era La caduta di Crisopolis, poi l'editore ha preferito L'ultima città dell'impero, perché è ambientato in una città fittizia, diciamo così, una Crisopolis, che è la Costantinopoli della caduta dell'impero. Quindi le fasi storiche del romanzo sono quelle dell'assedio finale di Maometto II, di Mehmet, il conquistatore, e la caduta della Costantinopoli del XV secolo. Però io l'ho immaginata come una città poi nei vestiti dei protagonisti, anche nelle armi che usano in guerra, come fosse la grande Vienna del 1918. Quindi c'è una cosa un po' straniante per il lettore. Capisco che possa essere magari anche faticoso entrare in questa mia invenzione letteraria. Per cui abbiamo la Costantinopoli con i ritmi dell'assedio, con lo svolgimento dell'assedio, ma quello che vediamo poi leggendo il romanzo è un po' la grande Vienna del 1918. Ma perché questo? Perché la mia idea fondamentalmente era di scrivere un romanzo che fosse, oddio, forse l'ennesima riflessione sulla fine di un mondo. In questo caso la fine di un mondo imperiale con dei grossi valori anche spirituali, anche morali, che viene travolto dall'attacco di una potenza nemica più forte e che nel momento della sua morte, perché è una morte violenta, la città alla fine cade, come cade Costantinopoli nel 1453, viene conquistata dal nemico appunto, forse scopre gli ultimi bagliori di grandezza, di nobiltà, anche di capacità di vivere la propria cultura, la propria civiltà nel momento supremo. Ecco, tutto questo è uno sfondo, quindi, poi per una storia che è però una storia d'amore fondamentalmente, perché il protagonista, che poi è quello che scrive il diario nella finzione letteraria che noi leggiamo, è un funzionario dello Stato, una persona con una vita normalissima, fa un lavoro d'ufficio abbastanza caffiano, in un certo senso, in una commissione elettorale di questo impero ormai in disfacimento, ma che vive per una serie di casi, una storia d'amore, anzi due storie d'amore che si intrecciano abbastanza appassionate e abbastanza sconvolgenti per lui e che lo trascinano poi nella grande storia, perché una delle due donne di cui si innamora è un personaggio della corte importante e si trova quindi coinvolto anche nella grande storia. Quindi è un po' amore e guerra, insomma, quindi la descrizione dell'assedio, delle fasi dell'assedio, anche di combattimenti, eccetera, si intreccia con la sua scoperta dell'amore e che lo trascina appunto in una quasi a diventare non protagonista, ma insomma spettatore avvantaggiato di quello che sta accadendo nella corte, di quello che sta accadendo in città e quindi sul palcoscenico appunto della grande storia. Poi non vi posso raccontare altro perché non vi dico come va a finire, a parte che la città cade, questo è inevitabile, diciamo così, però gli intrecci della storia, le avventure dei vari personaggi, perché poi ce ne sono anche altri oltre il protagonista e le donne di cui si innamora, queste non ve le racconto per adesso. Eh beh, mi sembra anche logico, no? Perché si diceva prima di iniziare che il libro bisogna comprarlo e leggerlo per scoprire tutte le sue connessioni e i suoi risuolti. Ma come ti è venuta l'idea di di accostare la caduta di questi due imperi così lontani nel tempo? Eh sai, allora intanto l'idea del romanzo è piuttosto risalente nel mio tempo biografico, un'idea che veramente avevo cara da molti anni. Poi, ma come spesso capita, no? Un'idea rimane lì finché non trovi i motivi per per tirarla fuori e poi ti appassioni ai personaggi, cominci insomma, no? A rifletterci sopra. Quindi l'idea in nuce era proprio di usare l'assedio della vera Costantinopoli, trasformandolo in un assedio diciamo così paradigmatico, no? Che potesse valere per per una un qualsiasi impero, una qualsiasi civiltà ormai messa di fronte alla propria imminente caduta, alla propria imminente disfacimento? Forse questo nasce probabilmente dalla da una riflessione che ci accomuna in tanti in questo momento, che ci chiediamo se la nostra civiltà occidentale, cristiana, romano, il romano greco cristiana sia in crisi, sia in crisi di valori, di identità, stia cedendo magari di fronte ad altri stimoli, ad altre forze esterne che sono destinate a prevalere. Non ne faccio un discorso di scontro di civiltà, soltanto di ricambio magari di civiltà. Ecco, quindi mi interessava che non fosse troppo identificabile con una situazione specifica, quindi soltanto la Costantinopoli del 1453. E allora per far capire subito al lettore che siamo in una dimensione metastorica, direi, anche se poi con dei riferimenti storici precisi. Ecco, l'idea di unirla alla grande Vienna del 18, che in fronte è l'altro grande impero vicino a noi che si è dissolto in un tempo storico ancora abbastanza recente, appunto l'idea mi è venuta e ho cercato appunto di renderla anche letterativamente gradevole, diciamo così. Per cui sì, il lettore può restare un po' sconcertato all'inizio, ma poi credo che sia abbastanza affascinante questo incrocio di due mondi diversi. Beh, anche perché tu poi hai comunque una scrittura vincente, no? Quindi questo sicuramente tira dentro il lettore che a un certo punto si dimentica di questa dicotomia. Eh, l'idea è quella, no? Dovrebbe dimenticarsi, dovrebbe proprio entrare in questo mondo appunto che è un'invenzione letteraria, ma che ha una sua coerenza interna, una sua logica interna certamente. Poi è il diario appunto, attraverso il diario di un personaggio e questo, se sono stato bravo, dovrebbe dargli un'ulteriore coerenza, insomma. Tra l'altro il diario è strutturato in capitoli piuttosto brevi, no? Come fossero le sue riflessioni, appunti, osservazioni che alla fine formano una visione d'insieme, no? Della situazione sia interna della città, sia sua per personale, che appunto io spero sia coerente, no? Che dia al lettore l'idea di una coerenza. E a questo punto io credo che la cosa migliore sia quella di ricordare il titolo di questo romanzo, che è L'ultima città dell'impero, di Gastone Breccia, che abbiamo avuto il grande piacere di avere il nostro ospite, è appena pubblicato da Newton Compton e anche il prezzo, come dicevo all'inizio, invoglia all'acquisto, perché 9,90 euro per 256 pagine non è cosa abituale nel campo editoriale italiano. Quindi io, Gastone, ti ringrazio davvero tanto. No, grazie, grazie a te dell'invito, è stato veramente un piacere, grazie mille. Allora io ricordo a tutti i nostri videoascoltatori di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org e arrivederci alla prossima videopresentazione. Grazie ancora. Arrivederci. Grazie a tutti i nostri video.